I rumors circolavano da tempo e oggi è arrivata l'ufficialità che si attendeva. L'ex sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani approda nel centro-destra e aderisce alla lista civica di Marsiglio Presidente. Questa mattina in conferenza stampa la spiegazione della decisione dell'ex primo cittadino. Intanto perché è l'unica lista civica nella compagine di centro-destra e quindi una scelta direi di senso perché sono un civico ero, un moderato ero civico resto, moderato resto e quindi i miei valori non è che li cambio perché ho aderito a una proposta che mi viene dal Presidente Marsiglio. In passato ho criticato il Presidente Marsiglio e la sua amministrazione, certo l'ho fatto, non rimangio quello che ho detto e il motivo della mia candidatura sta proprio forse in questo, nella comune condivisione con il Presidente di cercare un percorso che porti a un miglioramento a un miglioramento della qualità della vita dei cittadini abruzzesi. Hanno fatto bene? Sì, hanno fatto bene, ma si può fare meglio. Ecco, io metto a disposizione la mia esperienza, la mia competenza e sono pronto a rappresentare i cittadini che mi vorranno dare la loro fiducia. Sul passaggio dal centro-sinistra al centro-destra, Luciani ha poi spiegato la sua posizione. Sono stato in passato anche contro i 5 Stelle, però oggi sono in coalizione con il PD, addirittura qualcuno mi ha gridato onestà, bbia, ma queste sono polemiche veramente sterili che non interessano a nessuno, alle persone normali e io dico per fortuna sono la maggioranza. Interessa il fare bene, interessa lo spirito di sacrificio che uno ci mette nelle cose, interessano gli argomenti, interessa una sanità che va migliorata, un trasporto pubblico che deve essere assolutamente migliorato e quindi interessano il proliferare o lo sviluppare delle attività produttive, interessa il turismo, insomma interessa la nostra regione nella sua interessa che va dal mare alla montagna. Ecco, ognuno farà le sue scelte e io accetterò il risultato con il sorriso sulle labbra perché non sono un politico di professione, ho la mia professione, l'ho sempre sostenuta questa cosa, l'ho sempre rivendicata e la mia libertà è questa. Quindi sono pronto in questo nuovo percorso.